In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, oggi voglio parlarvi del Vangelo di domenica prossima secondo il Vetu sordo, cioè il Vangelo della trasfigurazione. Sono i primi nove versetti del capitolo 17 di Matteo. Gesù prese con sé tre suoi discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. A Pietro aveva da poco consegnato le chiavi della Chiesa. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. E le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Prende con sé anche Giacomo e Giovanni, i due fratelli figli di Zebedeo, che volevano i primi posti nel suo regno, ma non sapevano quello che cercavano. Ebbene Gesù sceglie proprio loro, questi tre discepoli, per renderli partecipi di una rivelazione molto importante, per aprire gli occhi di questi discepoli sulla verità della sua persona. Perciò li porta con sé su di un monte molto alto. La tradizione riconosce in questo monte il monte Tabor. Ma il Vangelo dice semplicemente che era un monte molto alto, loro soli, in disparte. Quanto è necessario, fratelli carissimi, salire su un monte alto e prendere le distanze dalle persone, dalle realtà che ci stanno intorno, per fare crescere che cosa? La nostra fede. La nostra fede ci farà vedere delle realtà che noi con la semplice ragione, con i nostri ragionamenti umani, con le nostre abitudini umane, nostro modo di affrontare la realtà, non possiamo vedere. Avere fede significa salire su un monte alto. E Gesù ci porta su un monte alto, con il dono appunto della fede. Che cosa vedono questi tre discepoli? vedono che il volto di Gesù comincia a brillare come il sole e le sue vesti divennero candide come la neve. Hanno quindi la visione di una luce, una luce che non è di questa terra, non si può paragonare a nulla se non lontanamente con il sole e con il candore della neve. In questa luce è immersa la figura di Gesù. Dunque Gesù non è soltanto un uomo. Ne hanno la piena consapevolezza. Gesù è molto di più. E quello che Pietro aveva detto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora ce l'hanno davanti agli occhi, così com'è. Poi c'è l'episodio della nube che scende. Rimangono avvolti in questa nube e nella sentono la voce di Dio. Del padre, questi è il figlio mio, prediletto. Ascoltatelo, in lui mi sono compiaciuto. Che bella questa frase del padre, che conferma ciò che Pietro aveva intuito. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma nello stesso tempo aggiunge in lui mi sono compiaciuto. Veramente questo figlio corrisponde alla perfezione, alla volontà di Dio. Potete seguire lui. È il fedele perfetto. È il testimone perfetto. Seguitelo, ascoltatelo. E poi abbiamo la reazione in consulta. San Pietro non sapeva in quel momento che cosa dire. Non sapeva neanche lui cosa stava dicendo. Perché rimane coinvolto e impressionato da questa visione che rimarrà stampata per tutta la sua vita, nella sua memoria. Pietro che dice, rimaniamo qui, su questo monte, facciamo tre tende. La tenda dà l'idea della dimora, del permanere. Restiamo sempre qui, fermiamo il tempo. Tra l'altro erano apparsi anche i due grandi testimoni dell'Antico Testamento, cioè Mosè ed Elia, a conversare con Gesù. Quindi anch'essi confermavano, insieme alla voce del Padre, che Gesù era colui che essi attendevano, avevano atteso, avevano prefigurato con le loro persone, avevano preannunciato con i loro insegnamenti. Pietro dice, restiamo sempre qui, fermiamo il tempo. Ma vedete, fratelli carissimi, non era il disegno di Dio. Il disegno di Dio era quello di passare attraverso la croce, non certamente quello di raggiungere una gloria immediata, ma di passare attraverso la croce e lì sconfiggere il maligno, e lì riportare vittoria per ciascuno di noi. E così la visione scompare. Gesù resta davanti a loro tutto solo. Ed ecco, Gesù era solo. E hanno quindi di nuovo l'immagine di un uomo solo di fronte al suo destino. In effetti, Gesù sulla croce sarà il solo a combattere contro il demonio. Lui con l'unica collaborazione di Maria Santissima, la Corredentrice, con pochi discepoli, uno scarsissimo numero di discepoli. Gli Gesù. Ecco la solitudine, quindi l'abbandono. Gesù è solo davanti a lui alla croce. Carissimi fratelli, anche noi abbiamo davanti le difficoltà del cammino. Non possiamo evitarle e raggiungere immediatamente la gloria. Ma le prove della divinità di Gesù, le prove della sua potenza, le prove della sua figlionanza divina, sono nella nostra memoria, sono nella nostra vita, sono nella fede che egli stesso ha acceso nei nostri cuori. Non perdiamo la memoria di questi fatti. Non perdiamo la manifestazione di Dio dentro di noi e affrontiamo quotidianamente il cammino che attraverso la croce ci porterà alla gloria. Sia lodato Gesù Cristo.